bentornati su canale per questo blog io sono il cons e oggi vi voglio parlare molto velocemente di una saga molto figa alla fine molto conosciuta che è quella della bambola assassina recentemente ho fatto una chucky marathon dove ho rivisto dal primo all'ultimo film della saga di chucky più il 3 e più il remake uscito con midline factory vi faccio vedere qual è la mia collezione di chucky perché non esiste un cofanetto con tutti i film italiano sarebbe fighissimo che ci fosse ma purtroppo non c'è adesso li vediamo uno il primo è ovviamente la fantastica edizione di minna e factory della bambola assassina con una qualità pazzesca il suo libricino fantastico in the factory stupendo questo veramente l'avrò visto 500 mila volte non dico di saper la memoria ma quasi c'è anche la card e questa edizione qua ha veramente ore e ore di contenuti speciali sull'attore che interpreta il insomma il nano che interpreta chucky perché in alcune scene è un nano che poi lo stesso di hour del destino del mondo è un attore abbastanza noto tanto backstage sullo studio del personaggio dei pupazzi degli animatroni che c'è veramente una marea di roba questa edizione definitiva è veramente fantastica il film che cosa c'è da dire io lo trovo veramente molto bello è un po trash comunque però mi piace tantissimo tutta l'ambientazione la tematica comunque della madre in difficoltà comunque in quegli anni era un tema interessante comunque lei è una donna sola che cerca di tirare avanti lavora ma non è che sia proprio semplice gli porta questo bambolotto comprato da un barbone insomma ci sono delle cose interessanti poi film degenera gratuita e basta però è molto divertente anche cià chi è molto fuori dagli schemi dice un sacco di parolacce ci sta insomma è in perfetto stile anni 80 un caltone poi da lì sono venuti fuori altri film per recuperare quelli che che quelli che sono i film è caduto qualcosa per recuperare quelli che sono i film della saga ho comprato questa edizione francese si è francese molto carina il box che la contiene e dentro tutti i film hanno la lingua credo tutti italiana ok l'unico che non ha la lingua italiana ecco o magari non è scritto dietro ce l'ha lo stesso informatevi comunque nelle recensioni di amazon trovate tutte le informazioni è il culto di chachi il culto di chachi che però adesso vi farò vedere ciò anche in italiano allora chachi 2 lei va beh ragazzi se non avete visto la saga un pochino spoiler questo video quindi saltatelo lei chiaramente non gli crede un cazzo nessuno cioè è stato il bambolotto è stato il bambolotto subito al gabbio con nella camera imbottita con la camicia di forza anche voi siete come me che quando vedete queste scene pensate ma non dirlo che è stato il bambolotto tanto non ti credo comunque lui viene mandato in affidamento andy viene mandato in affidamento il bambino cià che ritorna in un modo o nell'altro a tormentarlo e ammazza tutti c'è un bellissimo scontro finale è veramente divertente il 22 che questo qua il 2 è veramente divertente e tra l'altro curiosità delle curiosità una delle immagini più diffuse di chachi è questa qua dove taglia la testa a un mischiamo questo bambolotto con la molla però nel film non esiste questa scena niente questo veramente anche questo non è ai livelli del primo però è mantiene un bel ritmo divertente trash ci sono le morti ci sono sgozzamenti c'è un po di tutto molto belle anche le parti in cui c'è chi si stacca la mano e si vede che dentro sta diventando umano c'è la carne il sangue fighissimo grande film il 3 me lo ricordo appena ha il 3 il 3 allucinante il 3 allucinante il 3 forse ecco zoppica un po è ambientato togliamo anche il forse zoppica un po ambientato in una scuola militare dove andy finisce dopo aver fatto il giro di 3000 istituti perché ovviamente la madre hanno preso alla buttata dentro il manicomio più chiuso hanno buttato la chiave hanno spuntato per terra ha detto vai a non voglio più vederti e quindi lui finisce in una scuola militare c'è a chi lo raggiunge una scuola militare e fa un patatrac pure lì questo è un pochino noiosetto è pieno di cazzate però a volte sono talmente stupide le cose che accadono che fa ridere dopo il terzo capitolo di cia chi arriva la maledizione la maledizione di cia chi che ho qui no non arriva la maledizione dopo il terzo film scusate minchia qua mi sto confondendo dopo il terzo film arriva la sposa di cia chi usate mi sto confondendo e le ho appena visti sì 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 allora dopo il terzo film arriva la sposa di cia chi e qua veramente c'è da ridere arriva geni fertilli che insomma personaggio che poi si sarà sempre nella serie questo è veramente super trash questo è veramente qua cia chi diventa trash e non si ferma più fino quasi alla fine c'è un altro caso di trasposizione dell'anima all'interno di una bambola femmina di un personaggio che conosce charles lee ray e quindi fanno faranno coppia uccideranno cercheranno di uccidere e no cercheranno di uccidere delle persone insomma cercheranno di di appunto di trasferire la loro anima dentro delle persone ma insomma sarà un gran macello è veramente super trash la sposa dice che super trash ma divertentissimo divertentissimo e poi genera quello che è perché il finale farà generare anche qui sono un po spoiler se non volete saltate farà generare quello che è il figlio di cia chi perché nascerà un figlio di cia chi sì perché scopano nell'altro film cioè scopano due bamble che scopano ragazzi succede di tutto succede e qua nascerà il figlio di cia chi e questo è anche questo super trash ma ci sono delle tematiche super fighe innanzitutto il figlio di cia chi è diciamo sessualmente indeciso non sa bene di che sesso è essendo completamente piatto sotto essendo una bambola diciamo che non ha ben deciso chi vuole essere quindi diciamo un po verrebbe da dire spero di non sbagliare di non essere massacrato transgender o comunque è un personaggio molto ambiguo da quel punto di vista ed è interessante perché secondo me le tematiche di questi film sono molto avanti dom mancini comunque inserisce tema dell'omosessualità e lo fa anche con una grande naturalezza e senza essere moralista anzi si vede che è molto propenso l'inclusività e al progresso e anche il personaggio di cia chi è abbastanza così cioè meno scemo di quanto possa sembrare fantastico il figlio di cia chi è fantastico stupendo ci sono scene meravigliose fa morire da ridere e poi c'è l'auto convincimento da parte di di ciasi direi che vuole essere una bambola e questa è la parte che mi ha esaltato di più cioè la sua scelta di di non voler più tornare ad essere un essere umano e scopre la bellezza di essere un mito ormai di essere il grande ciacchi e quindi è fighissimo fighissimo sconsigliatissimo questo ce l'ho in blu ray ma ce l'ho anche dopo quello lì insomma c'è una serie di vicissitudini parentele varie cose strane che poi alla fine ormai già mi sono anche dimenticato c'è la maledizione la maledizione di ciacchi dove è coinvolta una famiglia che subirà comunque l'arrivo di ciacchi e c'è questa protagonista in sedia a rotelle che non sarà passerà bene con ciacchi che la tormenta e questo qua è praticamente il prequel diretto del culto di ciacchi di cui appunto nell'edizione francese era compreso come vedete le return letter non so come si dice di sciacchi comunque il culto cia chi è il culto culto di ciacchi ce l'avevo già questo me l'avevano mandato addirittura io ho fatto un giveaway quando uscì questo film dove qualcuno che non ricordo chi è ha vinto sono aprite questo blog la sceneggiatura autografata da don mancini quindi questo per dire insomma che mica cazzo insomma bello come come ci meglio avere la sceneggiatura di culto cia chi firmata da don mancini non mi ricordo chi l'ha vinto chi chi se lo ricorda anzi chi lo sa che la vinta spero non l'abbia buttata non mi ricordo chi era che la vinta mi venga a scrivere mi venga a dire guarda che ero io non mi ricordo più ho passato un po di tempo comunque fantastico calto cia chi è abbastanza divertente bello trash anche questo è ambientato un ospedale psichiatrico tra l'altro sul sito non avete questo proprio trovate comunque una recensione di tutti i film diciamo molto veloce per farsi un'idea se vi siete dimenticati magari avete visto la saga fino a un certo punto volete riprenderla avete perso un po il filo potete andare la e recuperare la nostra spiega culto cia finisce con questo film la saga di di ciacchi adesso arriverà anche la serie tv non so bene quando arriverà in italia su che piattaforma arriverà comunque io sono abbastanza curioso ora veniamo all'ultimo film che riguarda la saga di ciacchi che è il remake che ovviamente tutti i detrattori dei remake che io critico perché ragazzi cioè se criticate i remake dimostrate solo di non avere cultura cinematografica o comunque non avere una visione ampia di quello che è la storia gran parte dei soggetti sono stati vittime tra virgolette di remake no gli stessi film che voi ritenete i film originali in realtà sono remake di altri film degli anni 30 degli anni 40 degli anni 60 quindi per tale ragione non storcete troppo il naso se viene fatto un remake piuttosto sorcetelo se viene fatto male un film non pensate che i remake siano per forza fatti male il remake della bambola assassina non è un capolavoro ma è un ottimo film tra l'altro ben superiore a tanti seguiti di ciacchi ed è un film molto intelligente perché veramente riesce a fare quello che pochi remake dovrebbero fare cioè contestualizzare in un'epoca moderna una tematica chiaramente qua viene completamente escluso il tema del criminale che si trasferisce con un rito voodoo dentro una bambola qua c'è un'altra situazione ed è una situazione estremamente intrigante perché si parla di intelligenza artificiale che acquisisce una sua consapevolezza un suo carattere in più all'inizio c'è il tema comunque dello sfruttamento del lavoro perché c'è lo sfruttamento del lavoro c'è l'operaio cinese che insomma depresso che viene addirittura picchiato dal suo capo e per vendicarsi manomette una delle bambole che viene prodotta da questa industria industria che produce anche altri oggetti per la casa quindi domotica e ci sono tantissimi temi interessanti su appunto quanto spazio diamo la domotica quanto controllo diamo agli altri della nostra vita quanto gli concediamo senza esserne consapevoli e poi appunto arriva ciacchi che si può collegare con un po tutto quello che vuole e fa il cazzo che gli pare inizi a ammazzare eccetera è molto bello anche come ciacchi ha un carattere si sviluppa un carattere insomma abbastanza interessante c'è la scena fantastica di non aprite quella porta 2 dove ciacchi vede i ragazzi ridere c'è anche il tema comunque del bambino che cresce e in base a quello che vede si fa una sua idea di morale poi dei ragazzi che ridono guardando non aprite quella porta 2 pensa che uccidere ammazzare sia divertente quindi non ha filtri è molto molto primitivo nel suo ha un intelletto diciamo molto primitivo e da macchina mentre magari ecco questo è un film che può stop far storcere il naso è un po lo fa storcere anche a me per alcuni aspetti riguardanti il design della bambola che se per per alcune cose è veramente figo perché c'è chi ha delle espressioni molto coinvolgenti veramente riesce anche veramente intenerirti a è molto più espressivo di tanti ciacchi che sono stati fatti per esempio gli ultimi due film la bambola non ha un design molto bello secondo me questo non ha un design molto bello ma è molto espressivo però appunto capisco che possa non piacere perché effettivamente la bambola una faccia di cazzo cioè cia cia questi guance che scendono giù che sembra un anziano non sembra un bambolotto un bambolotto dovrebbe essere un bambino quindi lo trovo veramente poco curato da altri punti di vista è molto curato molto divertente non è un capolavoro però a livello di scrittura interessante come è stato messo giù e le tematiche che sono state sviluppate all'interno di questo film quindi per me è molto simpatico come film c'è anche tutta la scena della faccia scuoiata messa sull'anguria e poi incartata come regalo per la signora di sopra che c'è tutto questa dinamica molto divertente per cui è anche un po anni 80 per cui lui cerca di non far aprire il regalo alla vicina di casa perché dentro c'è la faccia di un morto comunque fantastico ora vi faccio vedere tutti i film insieme vabbè non so se li ho messi nel verso giusto ma chi se ne frega se li ho messi in ordine cronologico o no non importa questi sono tutti i film della saga di chaki la bambola assassina questa è la mia persona le collezioni e una collezione con tutti i film che sono questi devo buttare e passare all'altra questo è tutto per il video dedicato a chaki se vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale lasciate un commento se avete visto i film e con il vostro parere riguardo a questi film e all'intera sa ci vediamo al prossimo video